Questa è una lezione abbastanza simile a quella che trattava il soggetto e la subordinata soggettiva. Come al solito in parallelo, cioè l'analisi grammaticale, congiunzione dichiarativa, analisi logica oggetto e analisi del periodo subordinata oggettiva. Allora, in analisi grammaticale noi abbiamo quelle congiunzioni che vengono definite dichiarative. La congiunzione, come abbiamo detto più di una volta, è una parte invaliliabile del discorso che serve per collegare altre parti del discorso. Insisto sul fatto che il collegamento, più che tra sostantivi o tra sostantivi praticato verbale, con la congiunzione avviene tra subordinate, tra proposizioni, tra principale subordinata, tra principale, coordinata. Insomma, la congiunzione congiunge in modo particolare due proposizioni. Qui tra le congiunzioni dichiarative semplici abbiamo messo anche D e A, che di per sé sono delle preposizioni. Però a volte D e A possono, pur essendo preposizioni, avere una funzione di congiunzione. È un discorso abbastanza complesso, anche perché sui testi di grammatica la cosa viene trattata in modo assai differente dall'uno dall'altro ottimo. congiunzioni dichiarative semplici e propriamente sono il che e il come. D e A sono preposizioni. Vediamo il complemento oggetto. Il complemento oggetto è importantissimo in analisi logica, è quello che si studia per lo più dopo aver studiato il soggetto. È un nome, un pronomino a qualsiasi parte del discorso sostantivata, attenzione, che subisce l'azione compiuta dal soggetto di un verbo attivo o di un verbo riflessivo proprio. Quindi il soggetto compie l'azione. Questa azione ricade su qualcuno? Ecco, la persona, l'animale, la cosa su cui ricade l'azione compiuta dal soggetto è il complemento oggetto. Nei testi c'è sempre scritto, il complemento oggetto risponde alla domanda chi che cosa. Io non l'ho scritta questa domanda, perché questa domanda, spesso e volentieri, applicata in modo puramente meccanico, fa commettere degli errori che sono incredibili, perché alla domanda chi che cosa risponde anche il soggetto, risponde alla parte nominale, risponde un nome retto da una preposizione impropria. Quindi attenzione ad applicare la domanda a chi che cosa, alla prima sciocchezza che ci possiamo trovare avanti. E non è così. Vi faccio un esempio. Io mi trovo sopra il terrazzo. Io mi trovo sopra che cosa? Il terrazzo, terrazzo complemento oggetto? Assolutamente no. Sopra il terrazzo è un complemento di luogo. vi faccio ancora un altro esempio. Ci sono molti amici qui da me questa sera. Ci sono che cosa? Molti amici è complemento oggetto, ma neanche per sogno, molti amici è soggetto. Sono gli amici, quel sostantivo, che compie l'azione di esserci. esserci. Quindi vedete che non basta applicare la domandina a chi che cosa per trovare il complemento oggetto. Il complemento oggetto è, abbiamo detto, la parte sostantivata, il nome, il pronome, su cui ricade l'azione espressa da un verbo attivo. E non ci sono preposizioni che lo introducono. Esempio. Mangio la mela. Il verbo è mangiare. Il soggetto sono io. Sulla mela cade l'azione di mangiare, compiuta dal soggetto sottointeso io. Ma vediamo anche un riflessivo. Mario si lava. Abbiamo l'azione di lavare. Mario fa l'azione di lavare, quindi Mario è soggetto. Ma è anche l'oggetto su cui cade l'azione di lavare. Sul sì, Mario lava se stesso, sì, che è uguale a Mario, cade l'azione di lavare, compiuta dal soggetto Mario. Quindi, mi raccomando, complemento oggetto, partite dal verbo. Il verbo deve essere attivo. Se non è attivo, non c'è complemento oggetto o riflessivo. Poi, se volete, utilizzate anche la domanda chi che cosa. Ma sempre ponendola al verbo, dopo averlo letto col suo soggetto. io mangio. Che cosa? La mela. Mario lava. Che cosa? Se stesso. Ma il procedimento è questo. Non posso dare e porre la domanda a chi che cosa o a qualsiasi parte del discorso. A Ghiribiz. Subordinata oggettiva. La proposizione che può essere dipendente da un'altra o indipendente è un circuito di parole che girano attorno a un predicato verbale. L'ho ripetuto tante volte. Proposizione. Un predicato verbale su cui, attorno a cui, girano soggetto, complemento oggetto, complemento d'agente, causa efficiente, specificazione, eccetera, eccetera. La proposizione oggettiva è sempre dipendente, quindi subordinata, non può mai essere principale, e fa da oggetto all'azione espressa dal verbo della proposizione regente. Quindi quel verbo per lo più non ha un complemento oggetto. È la proposizione che fa da complemento oggetto. Da che cosa è introdotto? Ma dalle stesse congiunzioni dichiarative delle proposizioni congiuntive, con valore congiuntivo, col valore cioè di congiunzione, che introducono la subordinata soggettiva, quindi che come di a. Vediamo degli esempi. Quindi nelle congiunzioni ne abbiamo ripetuto quello che era già stato scritto prima sulle congiunzioni dichiarative. Qui ho voluto distinguere le congiunzioni dichiarative vere e proprie che come dalle preposizioni che fungono da congiunzioni dichiarative. Facciamo degli esempi. Dicono che piova. Il soggetto è essi. Vedete qui abbiamo un soggetto ben preciso, essi sottinteso. Dicono. Dicono che cosa? Che piova. E fa da complemento oggetto. L'azione del piovere fa da oggetto al verbo della leggente. Dicono. Pensavamo di partire. Noi, noi soggetto, pensavamo. Che cosa? Di partire. L'azione del partire fa da oggetto al verbo della leggente pensavamo. Ci consigliano di riflettere. Si sa perché non l'ho messo. Lo mettiamo. Ci consigliano di riflettere. Ci consigliano che cosa? Eh sì, soggetto. Consigliano. Ci consigliano che cosa? Di riflettere. L'azione di riflettere fa da oggetto al verbo della leggente. E questa è l'oggettiva. Quindi che piova, di partire, eccetera, sono delle subordinate oggettive che hanno una loro particolare traduzione latina e la vedremo dopo. In latino il complemento oggetto si traduce con l'accusativo. Ed è molto semplice perché non ci sono altre possibilità. Mangio la mela. Manduco palum. La subordinata oggettiva è uguale nella traduzione alla subordinata soggettiva. E si traduce con l'accusativo più infinito. Io qui vi do solo un esempio senza spiegarvi più di tanto. Perché? Perché per una trattazione esauriente dell'accusativo più infinito si rimanda al manuale di latino, che è qui. E alla registrazione parallela, che è qui. Quindi, se voi volete avere una trattazione completa dell'accusativo più infinito, dovete prendere questi punti di riferimento. Sia per il manuale, sia per la traduzione, il sonoro. Qui faccio semplicemente un esempio, ma così appena accennato, no? Perché è inutile che faccia delle lezioni doppie. Il maestro ha detto, il maestro, il soggetto, ha detto predicato verbale. Ha detto che cosa? Che è stato un grande scrittore. E anche qui sto vedendo dimenticato Eum. Allora, Magister Dixit, che cosa? Che lui, Eum, fuisse valente scrittore. Vedete che il soggetto va in accusativo. Ecco perché si chiama accusativo più infinito, perché il soggetto dell'infinitivo va in accusativo. Valente scrittore è una parte nominale riferendosi al soggetto anch'essa nell'accusativo. Fuisse è l'infinito. Però, ripeto, può essere l'infinito presente, passato futuro. C'è anteriorità, contemporaneità, quando si deve esprimere il soggetto, eccetera, eccetera, lo andate a trovare su quest'altra lezione.